Eccomi ragazzi scusate, oggi sono in tuta ma ho la cravatta, quindi dovrebbe andare bene lo stesso, spero, se mi cacciano dal confine è un problema e se mi licenziano non so cosa fare Bene ragazzi qua è Steppni e bentornati in questo ottavo episodio della serie di Papers Please, documenti prego No Stepp, non è l'ottavo episodio, è il settimo episodio e ne succederanno di tutti i colori, te lo dice lo Steppni del futuro, fidati e fidatevi anche voi, buona visione Come al solito siamo pronti per un'altra giornata, vediamo un po' cosa c'ha da dirmi il mio amico Ibrahimovic, ma ciao caro Grazie per ieri, che cosa perché ti ho salvato la vita immagino, mia miera non è più come prima, ma non è possibile però che devo salvarvi io, non ha senso questa cosa Cioè ci sono le guardie a proteggere, a proteggere il confine, niente devo sparare io, va bene, questi sono i ricercati di oggi, andiamo subito avanti con il primo di oggi C'hai la faccia un po' da delinquente, ho un lavoro qui, se hai un lavoro qua, perché c'hai un foglio di lavoro per entrare e lavorare qua, non ha senso, dovresti venire a lavorare Mi fanno fare pure i calcoli, 12 settimane corrispondono a 3 mesi, dovrebbe essere tutto ok, la città però mi convince tanto Sunkeido esiste veramente, incredibile ma vero, tiè puoi andartene Obiettivo di oggi, 0 ammon... Stai scherzando? Nessuna è entrata da Impor? Come nessuna è entrata da Impor? Impor rifiuta la merce importata della zona, sono richieste del ministero, non dobbiamo far entrare nessuno Oh mio dio, ci può essere così distratti Però posso ancora farmi perdonare, questo è un delinquente, guardatelo lì con il baffettino, non va bene, tieni, tornatene a casa immediatamente Hai un viso interessante, fai passare me o la paghi? Addirittura mi minacci? Per quanto mi riguarda stai in gattabuia per tutta la tua vita 10, 20, 30 anni, finché non esci e diventi una prima persona E poi lavori forzati, tiè Questo prende, arriva e mi minaccia addirittura, non ho parole Ehi conosco te, sei di Niersk, ho lavorato tanti anni con tuo padre Questo cosa significa? Eri piccolo furfante, ma fatti gli affari tuoi Tu pensi di conoscermi e non sei nessuno, stai cercando di fregarmi, te lo dico io È nata l'11 giugno, lo stesso giorno in cui sono nato io Soltanto tipo 80 anni prima Rosa, Alessandra, sembro una brava donna Ma se mi combini un guaio, mi arrabbio Dai, approviamola, facciamola entrare Ora torno a Niersk e dico che stai bene qui Grazie, probabilmente parlerà con i miei genitori Ma Niersk, scusa, questa è Arzosca, non è Niersk Non sto capendo nulla Come mai arrivano tutte queste persone da Arzosca? Di solito sono tutti esterni Questo dovrebbe essere il presidio di Grestin Quindi in teoria dovrebbe poter entrare questa tizia Esatto Non me la cantano giusta Secondo me vogliono tutti quanti fregarmi Cioè in realtà tutti hanno il viso di volermi fregare E di solito c'è qualcosa che non va Date di scadenza non conforme Ho detto zero ammonimento e ne ho già presi due Possibile? Vengo dodici settimane per lavorare Che sta succedendo? Ma sei completamente diverso Cioè qui c'hai gli occhiali Sei pelato Qui c'hai i capelli Ho fatto un'operazione Certo ti sei fatto crescere i capelli dal niente Voglio proprio vedere Va bene così Ora controllo Non ti preoccupare Se le impronte sono quelle lì Ti faccio entrare Altrimenti no Non considero le impronte Oh poverino Arrestato Vi ricordo che comunque ci continuano a pagare Anche se non c'è più la guardia Tutte le notti torna e ci porta È il dinero Ciao bello Questo voleva convincermi di aver fatto un trapianto per i capelli Ma vi rendete conto Non ho parole Ho un lavoro qui E vengo per 90 giorni Ok Deciderò io se puoi farlo Architettura Lena Berensky It's everything ok It's everything ok Tu puoi entrare Nelle federazioni unite c'è una città che si chiama Orista City E allora un codesta city T'approvo e ti fa lavorare Vieni vieni Il nostro caro vecchio amico è tornato Sono di nuovo qui Tutto sistemato ora Ora passo spesso per vedere te Noi buoni amici Amici io e te non ne sono sicuro Anche se tutto sommato Sei abbastanza simpatico Io ti faccio entrare Anche se non ho mai detto Quanti giorni Hai intenzione di restare Il peso Dai Volevi provare a fregarmi Che caspita Non si fa così È una triste storia Mia moglie È cuoca cattiva Ma se io non mangio Lei arrabbia Facciamo una perquisizione Controllo Se sei ok Ti faccio passare Forse a te non piace questo Cosa stai cercando Di importare qua dentro Oh mio dio Questo vecchietto è un delinquente Pazzesco Oh però guardate che fisico Che c'ha Eh mio dio Sono bombe Il contrabbando è vietato Da Zosca Non so come Dibla Non si può fare È droga Ma ho piccola attività qui Tu fai passare me Io ti do qualcosa in cambio Qualcosa cosa Dieci crediti Io ti do dieci crediti Per piccolo timbro Oh mio dio Vi giuro mi dispiace Un casino farlo arrestare Perché lui è simpatico Però sta entrando con la droga Nel paese Se lo licenzio Me ne pentirò Per tutta la vita E purtroppo devo farle un tag davvero È un mio amico È un mio amico ormai Non so perché lo sto facendo Sono ufficialmente un delinquente A tutta forza La cosa Mi costi Cinque crediti Di penalizzazione Guardate Peso non conforme Ne possibili contrabbandiere E però me ne hai date dieci Dai sono in più cinque Plus valenza Soltanto che mi licenzieranno presto Sono di passaggio Per un paio di giorni Da Obristan Vediamo se quella città esiste veramente Lorndatz Sì esiste Il tuo nome è veramente bizzarro Comunque Inga Wittkauskaiden Tutto ok Puoi entrare Ho preso tre ammonimenti oggi Cioè sono veramente un delinquente Non ho intenzione di trasferirmi Tuo figlio ha fatto un disegno Che puoi portare al lavoro E con i pastelli che gli ho comprato Ci credo Sono costati 25 crediti Quanto l'affitto Sono spese le sanzioni di import Così presto Cosa è successo? Sono davvero curioso di vedere il disegno del figlio Perché probabilmente ve lo faranno vedere Sta arrivando una macchina Sicuramente ci sarà qualcuno Che vuole parlare con me Eccolo lì Eroe Darzoska Il disegno di mio figlio Bellissimo Appendi sul muro Certo Lo mettiamo Esattamente qui Guarda Fianco al mio premio Per riconoscimento di sufficienza Bella cacata Oh 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 Buongiorno Questo tipo chi è? Troppo presto per tornare qui Puzza di questo presidio da nausea Cos'è altro schifo appeso? Questi muri non sono per targhe ufficiali Ora decurtiamo paga per violazione Non si ripeterà? No 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 Mi tolgo la paga perché ho paio il mio figlio Al minuto presentazione Non sono terribile Ha ricevuto 19 ammonimenti Non peggiorare ancora Oh mio dio Ora ho vecchia amica in arrivo A prova sua entrata Suo nome è Shae Pierwzovska Non voglio sapere di che problemi Ha da lei Peloid Adesso Un altro riconoscimento per sufficienza La prossima volta che arrivo Gli stacchiamo in tempo eh Ma bannaggia mio figlio Come caspita si chiamava la tipa? Oh mio dio Non me lo ricorderò mai Vanessa Ricaurte vorrebbe entrare Ma arriva qua senza passaporto C'è già un piccolo problema Io non capisco Ecco qua il passaporto Faccelo vedere Sei delle federazioni unite Ma c'è una faccia un po' diversa Non dirmi che il tempo è stato crudele con te Non è vero Sei più carina di prima Se corrisponde Ricaurte e Vanessa Non c'è niente da fare Dobbiamo farla entrare davvero Dati coincidenti Ok Vuol dire che veramente Col corso del tempo è migliorata Ben per lei Shingleton esiste Quindi devi entrare davvero Eccolo il tipo dell'ordine Che si rifà presente al nostro presidio Chi dovremmo fare entrare Killer in arrivo da Antegria A pebersaglio un importante agente Ezik Darzoska Va fermato Il nome è Kaledistom Non dimenticarlo Kaledistom Ammazzeremo sto tipo? Cioè non lo faremo entrare È diverso Addirittura il bigliettino col teschio di morte Apri Non toccare la polvere Che significa? Non sto capendo ragazzi Perché me l'ha dato allora? Questa scrivania è un bordello Vengo a vivere con mia moglie In Arzoska Pierre Fortier In ogni caso Dovresti avere il cedolino Che è l'identificativo Per permettermi di farti entrare Che cos'è l'identificativo? È un oggetto Che ti serve per entrare Quindi non puoi entrare Quindi tiro fuori questo Ti do il motivo Che non puoi entrare Rifiuta e te ne vai Ciao È stato più semplice del previsto Non si è neanche lamentato Forse si è reso conto Che serviva davvero Mumofofka Rebecca Mia presenza richetta Tutto in regola A prova per le autorizzazioni diplomatiche Entra e adios Ricordiamoci del killer Ricordiamoci anche del favore al tipo Se no ci caccia Abbiamo un pass internazionale Per la stampa Vengo pochi giorni Forse poche settimane Sta seguendo una pista Per un caso E dobbiamo farla entrare Però non ha l'identificativo Cioè vedi che mi dà l'incongruenza Non ti devo far entrare Sono un reporter Ho diritto di entrare Dammi timbro di visto Non lo so Non lo so Se la faccio entrare Mi dà problemi Se non la faccio entrare Mi dà problemi comunque con la stampa Vattene via Va Questo pass non vale nulla Fascista Ma perché? Se fai rispettare le regole Sei un fascista Motivo del rifiuto un indicato? Cavolo Devo provare il pulsantino Non so fare il mio lavoro Faccio veramente pena E mi merito di essere licenziato Questa viene per l'assistenza sanitaria Cioè non posso manco Permettermi di cacciarla Viene ad aiutare le persone Devo essere più veloce Perché se non faccio entrare la tipa Mi cacciano Io ve lo garantisco Carter Oscar Vengo in transito Da 97 kg Qui me ne segna 101 Bello mio Sei ingrassato in vacanza? Piccola perquisizione per te Vediamo un po' Se stai cercando di fregarmi Oppure sei uno di buona forchetta Magari non vuole fregarmi È solo un piccolo panzoncino Che ha delle siringhe O dei coltelli sulla schiena Prima o poi qualcuno mi spara Un colpo in testa Io me lo sento È questa piccola sensazione Che vi devo dire Che cosa ho commesso Un errore Bam Arrestato Ma dove sono i miei soldi? Lui è il killer Revelo vivo Me lo sento eh Oh mio dio è lui E lui è Iston Khaled È di passaggio Che ci devo fare? Non toccare la polvere L'ho appena toccata Sono scemo Sono completamente un coglione E quindi adesso che succede? No No E adesso? Perché? No 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 Disastro Non toccare la polvere Ecco quello che faccio io Morto per sempre Il lato positivo però è che adesso posso staccare Staggeggio degli aquilotti E non mi dà la sanzione Quando si dice avere un deja vu Vero? Eccolo qua È buffa sta cosa Mi viene da ridere Ma in realtà Non so che caspita Stia succedendo Ammonimento L'altezza non conforme Come faccio a sapere l'altezza? Come faccio a capire Quanto è alta una persona? Non c'è un metro Se ne stanno inventando Di tutti i colori Per farmi impazzire Io ve lo dico Dai Dammi il bigliettino di morte E avanti il prossimo L'altezza non conforme Ah ora coincide Io devo controllare l'altezza Alla grande È tutto ok Via Permesso di entrata Numero non conforme No basta ragazzi Mi licenzio Non è possibile Quanti bigliettini Devo controllare Io impazzisco Non me ne frega più niente Il mio lavoro E la mia vita Non hanno più senso Addio Vattene Foglio di lavoro Contrafatto Tua madre Io spero Che ti caschi in testa Una pentola Questa è la giornalista Di prima Vai stavolta ti faccio entrare Non voglio sapere niente Guarda a prova No no Perché ho fatto a prova Mi daranno la penalità Di sicuro Tanta inefficienza È incredibile No Mio Dio Cinque crediti penali È un disastro Stagiornata Voglio finire il prima possibile Basta Devo andare a letto Devo dormire Novanta giorni Corcomi Isabella E che cosa devo fare Io con te Io non so più niente Non mi torna più nulla Possibile che tutti quanti Stiano cercando Di fregarmi E di mettermi Bastoni fra le ruote Nella mia carriera È scaduto il passaporto Mio figlio e mia suocera Che piangono Perché non mangiano Un paio di giorni Io spero Tu non mi reghi Dei problemi Non sei fra i criminali Ricercati Vorrebbe essere tutto in regola Aspetta però Impor c'è una città Che si chiama Hainan Sì ce l'ha Perfetto Allora puoi entrare Adios Tutte le volte Che passa qualcuno Adesso ho il timore Che voglio affregarmi Tieni questo è diverso Bella La foto è diversa Ma ho fatto un'operazione E io lo scoprirò Se è vero o no Mannaggia a te Rebecca Mumfofka Fai tu o non fai tu A me se non erano diverse A vederle Cioè quindi ciao bella Non so niente di questa storia Sì sì Arrestata Dai devo ora simulare Un po' di hash Sta andando tutto male Perché non ho messo la camicia E questo è il vero problema Vengo per un anno intero A lavorare Tutto sembra coincidere Quindi approva E vai via Non ci voglio credere Io lo controllo Tutte le sante volte Una volta che non lo controllo Basta Questo è l'ultimo giorno di lavoro Io me lo sento Cioè solo oggi Ho preso 5 ammonimenti Ho fatto la collezione Questo che caspita Ha detto Non ho ascoltato Vengo per due giorni Cioè ha scritto Sesso femminile Tu sei un uomo Bello mio Se sotto a quel vestito Hai le tette Io me ne vado Veramente Mi licenzo Perché non vi sta abbastanza Ha le tette Ha veramente le tette No è impossibile Non esiste tutto questo Cioè io Non so più cosa dire Non so più cosa dire Ve lo giuro Con tutto il mio cuore Mi sono ammazzato Ho preso 57 ammonimenti Oh mio dio Questa giornata di lavoro È completamente da dimenticare Sei te la mia di quel tipo? No Dov'è quella lì? Devo anche controllare L'altezza Il peso Tutte queste cose Non me l'hanno mai dette Non me l'aspettavo Perquisizione Perché sei ingrassata Ad un tratto 4 kg Dai il contrabbando È dietro l'angolo Via Fai vedere Tengo già pronto il cedolino Qui con il contrabbando E addirittura Un mega esplosivo Qui volevamo fare i botti Di capodanno In anticipo Li mortacci tua È così ovvio Beh dimmelo te Ci avrai 500 kg di C4 Di esplosivo Io divento pazzo In questo presidio Ragazzi Ve lo dico proprio sinceramente È lei la tizia A fare entrare No non è neanche lei Allora non so più cosa dire Mia presenza è richiesta Maria Ferenc Se l'autorizzazione diplomatica È contraffatta Io come faccio a saperlo Chi me lo spiega Non c'è un foglio Che me lo dimostri Oppure no E quindi che caspia Devo fare A prova E basta Ciao bella L'amica del tipo Non è venuta Io non so cosa dirvi Verrò licenziato Questo probabilmente È il mio ultimo giorno di lavoro 35 crediti di penalità Sono fregato completamente Ve lo garantisco E siamo solo al giorno numero 20 Manco un mese di lavoro E mi licenziano Mi dispiace per oggi Un bagno di sangue Sono praticamente diventato Da ricco a povero In un giorno solo E praticamente Lavoro per pagare Gli ammonimenti E le multe Però comunque il video Vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate un bel mi piace Commentate Fatemi sapere Cosa ne pensate Dell'assaggio della polverina È stato un tocco di classe Questa me la levo Che mi porta ad un male pazzesco O forse È il non avere la camicia Non lo so Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Se ancora non è stato iscrivato al canale No ci vediamo al prossimo video Da sempre tutto Bene Camicia bello Felpa male Ricordatelo per il prossimo giorno Step Capito? Bene Capito? Capito? Facitto? Facilli? Paggo스타? Capito? à